Siamo dal backstage, Claudio Gambaro Allora, una buonasera a tutti, backstage di Tezenis Summer Festival Questa è Radio Sanremo Eccoci Da Genova, una festa incredibile Piazza della Vittoria In Piazza della Vittoria, abbiamo appena seguito le prove di Achille Lauro che, devo dire, ha preannunciato un suo sipario musicale decisamente invitante per questa sera Sì, abbiamo già paura Achille Lauro che è sempre Achille Lauro, peraltro Come è, bene ragazzi? Abbiamo visto durante le prove di Achille Lauro anche una dolce fanciusa Sì, sì, che canta con lui il pezzo Fragole e champagne Esatto E sarà una grande festa Non so se l'abbiamo ancora detto Probabilmente sì Sì, e queste sono solo le prove Cioè la piazza è già gremita Non sono neanche le venti Comunque facciamo anche vedere davvero Sì, il palco Il palco Visto di qua Eccolo qui Eccolo qui Che altro dire? Buon Tezzenis Summer Festival E viva la musica Viva Genova Assolutamente No, volevo dire una cosa Che se venite non potrete venire qui Perché noi siamo In una zona Proibita Nel diambulo Fra il pubblico E il palco Però Anche noi spariremo da questa Ma noi spariremo Ma spariremo comunque Ma ci faranno sparire Secondo me Senti, senti, senti L'applauso per noi Signori Claudio Gambaro Mi sembra tutto giusto Ragazzi fate un bel applauso a Rose Grazie